Musica Ben ritrovato a un nuovo appuntamento con Motore Salute. Vi ricordo il nostro sito su cui potete rivedere le puntate www.motoresalute.it Naturalmente potete non solo rivedere le puntate ma ottenere una serie di informazioni che vi possono essere utili. E una serie di informazioni che vi possono essere utili le potete avere anche dal numero di telefono che vedete in sovrimpressione. Potete telefonarci anche se avete qualche esigenza, ad esempio se vi hanno diagnosticato una patologia e non sapete di cosa si tratti o non sapete dov'è il centro più corretto per curarvi di quella determinata patologia. E tutto questo naturalmente in tutto il territorio nazionale, quindi chiamate con fiducia. Se non abbiamo una risposta il giorno in cui ci chiamate, vi richiamiamo il giorno dopo e vi diamo la risposta. Andiamo a conoscere il nostro ospite, Costanza Lamperti. Buonasera. Buonasera. Neurologo dell'Istituto Neurologico Besta. Sì, effettivamente sì. Sono un neurologo e un ricercatore, in realtà faccio entrambe le cose. Ed è il motivo per cui è qua questa sera. Esatto. Voi avete fatto una lunga e complessa ricerca che dimostra quanto, diciamo così, in via empirica tutti pensavamo, ovvero che il movimento fisico fa bene alla muscolatura. Esattamente. E così potremmo alzarci, ma in realtà è un po' più complesso. Esatto. No, in realtà è uno studio internazionale che ha visto la collaborazione, pilotato diciamo dal TGEM di Napoli e finanziato da Teleton, in cui numerosi ricercatori, in collaborazione anche con gli Stati Uniti e con l'Università di Cambridge, sono messi insieme per andare un po' a capire effettivamente come mai o se era vero che un esercizio fisico, un esercizio muscolare prolungato potesse avere effettivamente un beneficio sullo stesso fisico e sul nostro benessere e sulla nostra muscolatura. Questo attraverso una lunga collaborazione che ha visto esperimenti di diversa natura sia su in vivo che in vitro e ci ha dimostrato come effettivamente il continuo stimolo della fibra muscolare può attivare un fattore, che è questo fattore un po' nuovo ed innovativo che abbiamo identificato che si chiama TFEB, che permette l'attivazione un po' di tutti i nostri motori e di tutte le nostre vie metaboliche, favorendo in questo modo l'ulteriore rinforzamento della muscolatura, oltre che l'attivazione dei metabolismi e quindi anche di un corretto utilizzo dei grassi e degli zuccheri che insomma introduciamo con l'alimentazione. Allora approfondiamo perché il tema è ovviamente di enorme interesse per tutti noi. Attività fisica importante che cosa significa? Quante volte a settimana, per quanto tempo e che tipo? Allora, lo studio ci dice che l'allenamento deve esserci ma non deve essere eccessivo e lo sforzo non deve essere eccessivo. Diciamo che un allenamento medio con uno sforzo che si dice sotto massimale per mezz'ora, tre volte alla settimana può essere un buon tipo di allenamento. Quindi che sia la ciclette, che sia il jogging, può essere un modo per stimolare i nostri muscoli e stimolare il nostro metabolismo, senza però incorrere nel rischio di fare troppo esercizio, stimolare troppo e quindi attivare delle vie metaboliche che possono poi essere dannose. Allora, andiamo a vedere Motore Salute Tg con Elisa Masella. Vediamo. Buonasera e benvenuti a Motore Salute Tg. Un bambino su quattro prende troppo sole. Nel corso della propria vita, un bambino su quattro ha riportato scottature per la troppa esposizione solare. L'85% dei bambini infatti si protegge con creme solari, ma esiste ancora una fascia della popolazione tra il 15 e il 20% refrataria a proteggersi con creme, magliette o cappellini. Nel corso di una conferenza stampa al miuro sono stati diffusi i risultati della più grande campagna di prevenzione primaria contro il melanoma, che ha coinvolto 300 scuole di 11 regioni, circa 50.000 alunni e oltre 4.000 docenti, tutti con un unico obiettivo, insegnare le regole della fotoprotezione con attività didattiche, svolte anche attraverso materiali cartacei e digitali della campagna. Il melanoma è il più aggressivo e temuto tumore della pelle, con un'incidenza più che raddoppiata negli ultimi 30 anni. In Italia sono oltre 100.000 le persone colpite e circa 13.000 i nuovi casi ogni anno. L'esposizione ai raggi UV del sole e delle fonti artificiali è il principale fattore di rischio. Inoltre il melanoma è sempre più frequente anche tra i giovani adulti di 20-30 anni di età e ormai rappresenta il secondo tumore per incidenza nella popolazione maschile e il terzo in quella femminile al di sotto dei 50 anni. Morire di ignoranza Anche l'analfabetismo medico-sanitario causa morti. Dalla metà degli anni 70 si è cominciato a studiare in che misura il grado di alfabetizzazione medico-sanitaria, cioè la capacità di capire e usare le informazioni pertinenti per prendere decisioni relative a comportamenti di cura, influenzi la salute delle persone. Una scarsa padronanza della terminologia e della concatenazione logica delle argomentazioni influenza la capacità delle persone di orientarsi nel sistema sanitario, di compilare moduli di accettazione, di gestire le malattie croniche o adottare stili di vita non a rischio, di seguire le prescrizioni medico-chirurgiche nelle fasi perioperatorie e di saper leggere i fogliettini informativi dei farmaci o di non cadere vittime di credenze pseudoscientifiche sulle cause delle malattie e sui trattamenti. Ringrazio per l'attenzione e ripasso la linea allo studio. Abbiamo parlato di attività fisica, quanto è importante l'attività fisica? Vogliamo ancora ricordarlo, il vostro studio dimostra che l'attività fisica che beneficio dà la nostra muscolatura, le nostre cellule di fatto? Allora, di fatto abbiamo scoperto che questo fattore che si chiama T-FEB ha la capacità di attivare delle vie metaboliche che sono sostanzialmente quella che ci permette di utilizzare i nostri grassi che noi introduciamo con l'alimentazione e gli zuccheri, quindi la via glicolitica e la via metabolica ossidativa, facendo sì che questo motore, che è il motore dei nostri muscoli, funzioni meglio. Un'eccessiva attività potrebbe in realtà produrre un'eccessiva attivazione di queste vie metaboliche, per esempio nell'ambito della via metabolica ossidativa, produrre quei radicali liberi in eccesso che possono alla fine essere quasi dannosi per il nostro organismo. Quindi è importante fare un'attività fisica, è importante stimolare i nostri muscoli nel modo giusto e nei tempi giusti. Dicevamo all'inizio della trasmissione che in realtà il bodybuilding ci farà diventare belli, ma dal punto di vista della salute c'è di meglio. Assolutamente, nel senso che il bodybuilding è un tipo di esercizio che aumenta molto la nostra massa muscolare, quindi ci sentiamo magari più belli e più forti, purtuttavia in primis rischia di sovraccaricare le nostre articolazioni, le nostre strutture e quindi provocare un successivo effettivo danneggiamento in realtà, e anche a livello della singola fibra muscolare in realtà può, come dicevo, stimolare troppo la via ossidativa e la via glicolitica e quindi metterci in un meccanismo che in realtà alla fine potrebbe diventare tossico. Allora il vostro è uno studio davvero molto prestigioso, quindi diciamo noi che seguiamo da casa la dottoressa possiamo credere a quanto lei dice, per cui troppo sport no, ma jogging o bicicletta o parteggiata a passo veloce? Passeggiata a passo veloce, molto veloce, meglio una corsetta leggera. A livello cellulare che cosa accade se noi ci comportiamo in questo modo? A livello cellulare accade che questa stimolazione della fibra muscolare produce questo spostamento di questa molecola che si chiama T-feb dal citoplasma, cioè da dove non è efficace al nucleo, dove invece ci sono tutte le attivazioni dei nostri geni, e questi geni vengono come attivati, come se questo motore che è in una fase un po' di quiescenza venisse attivato e iniziasse a lavorare molto meglio e quindi a essere di ulteriore supporto alla nostra fibra muscolare. Quindi si parte dal muscolo, si va al nucleo e si ritorna alla fibra muscolare. Ecco, dà un vantaggio al muscolo nel senso che il muscolo è più reattivo? Nel senso che il muscolo è più reattivo e il muscolo è in grado di lavorare meglio e quindi di sopportare poi meglio lo sforzo e quindi c'è un'abitudine nel tempo a fare esercizio e a sopportarlo meglio. Allora, andiamo a vedere la pillola del giorno con il dottor Claudio Zanoni, il nostro direttore scientifico. Vediamo. Buonasera. Ancora una volta vengono promessi soldi in più per il sistema sanitario nazionale, ma dopo poco tempo tali vengono rimessi in discussione. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un balletto dei numeri, prima trionfalmente annunciato e poi sommessamente smentito. È recente infatti la conferma del taglio di 422 milioni alle regioni per la sanità del 2017. Ciò che è importante però è che siano stati vincolati una parte di finanziamenti, dal miliardo per i farmaci innovativi oncologici e per TTC, ai 400 milioni per il contratto, ai 75 milioni per la stabilizzazione dei precari, fino ai 100 milioni per i vaccini. Inoltre, il Ministro della Saute Lorenzin garantisce che anche i soldi, 800 milioni, per i nuovi LEA, livelli essenziali di assistenza, ci sono e non sarebbero quindi a rischio le nuove prestazioni sanitarie, introdotto con la recente revisione dei nuovi livelli essenziali assistenziali. Sicuramente aver vincolato una parte del fondo ai farmaci innovativi al Piano Nazionale Vaccini rappresenta un primo risultato che permetterà l'introduzione delle nuove terapie e di altre vaccinazioni in tutte le regioni italiane, ma è diffusa la convinzione che tali stanziamenti, compresi quelli per i nuovi LEA, siano insufficiente con possibili ricadute sull'accesso all'innovazione terapeutica, fortunatamente sempre più presente grazie all'avanzamento della ricerca scientifica. È un gatto che si morde la coda, derivato dalla quota stanziata insufficiente e sottostimata in rapporto agli altri Paesi europei. Come uscirne? Una politica del farmaco stringente può dare una parziale risposta, ma forse dovremmo pensare che per salvare il nostro sistema sanitario nazionale dovremmo avere il coraggio di cambiarlo, rendendolo per intanto omogeneo, aumentando la quota assicurativa sociale e privata, ma governandola ed applicando una vera spending review per trasferire fondi sprecati in altri settori della pubblica amministrazione alla cura della salute con ricadute benefiche non solo sui cittadini, ma anche sul prodotto interno lordo. Buona serata. Grazie al Dottor Zanon abbiamo visto quanto ci fa bene allenarci, che poi significa in pratica un po' di attività fisica qualche volta a settimana. Quante persone avete coinvolto nello studio? In realtà lo studio è uno studio internazionale e quindi ha coinvolto una trentina di persone tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra. Come dicevo il capofila è il TGEM col professor Ballabio di Napoli e noi come Istituto BES abbiamo collaborato per quanto riguarda la parte appunto del metabolismo dei grassi di cui ci occupiamo di più, c'è una ampia collaborazione con l'Università di Cambridge e con gli Stati Uniti l'Università del Texas. Quindi è uno studio molto ampio, internazionale, che è durato due o tre anni e che ha visto proprio l'utilizzo di diversissime metodiche e di diverse expertise proprio perché c'era la necessità di utilizzare sia magari il clinico, sia chi si occupa più di modellistica animali o chi si occupa più di metabolismo e di genetica. Diciamo che è uno studio rivoluzionario, nel senso che dimostra quanto a buon senso già si immaginava. Esatto, diciamo che ci permette di mettere un tassello in più dal punto di vista scientifico e dal punto di vista del meccanismo del perché alcune cose che in realtà a buon senso ci sembravano giuste, in realtà lo sono davvero e quanto questo possa essere utilizzato sia nella salute di tutti noi, di tutti i giorni, ma anche nella salute di chi invece magari ha proprio problemi a livello dei muscoli o malattie di questo tipo. Il movimento fisico fa bene anche se siamo ammalati? Il movimento fisico fa bene anche se siamo ammalati, il movimento fisico fa sicuramente bene se abbiamo delle malattie anche a livello muscolare, anche qui fatto sempre nel modo giusto perché questo studio dimostra che se anche un muscolo è un po' più debole perché è ammalato, purtuttavia questa stimolazione fatta nel modo giusto può rinforzare questo muscolo e permettergli di lavorare meglio in condizioni basali. A che età è necessario iniziare a fare attività fisica? L'attività fisica si può iniziare a farla sempre, da quando si nasce, c'è da dire che quando si è piccolini la si fa da soli, quando si è più grandi va fatta, va fatta sicuramente nell'età adolescenziale, va fatta soprattutto nella pubertà, proprio in quel momento in cui abbiamo uno scombustolamento ormonale, quindi abbiamo bisogno di fare questo tipo di attività, va fatta sicuramente nell'età adulta, ma anche va continuata a fare nell'età avanzata, proprio perché mantenere in esercizio questi muscoli in questo modo permette ai muscoli di supportarci anche quando siamo ormai magari un po' più grandi celli e quindi facciamo più fatica. E se non abbiamo mai fatto attività fisica e stiamo guardando Motore Salute questa serie ci rendiamo conto che abbiamo 72 anni e abbiamo fatto una vita sedentaria, che consigliamo? Beh, c'è sempre tempo per iniziare, è ovvio che una persona che non ha mai fatto attività fisica può iniziare con un'attività fisica molto blanda, cioè la camminata veloce, proprio perché l'allenamento comunque poi lo aiuta, aiuta tutti noi a diventare più bravi nel tempo, anche la persona di 72 anni, è ovvio che non possiamo pensare a 72 anni di metterci a fare la corsa o la maratona se non abbiamo mai avuto un tipo di attività fisica, ovvio. Allora, andiamo a vedere con Cinzia Boschiero, Motore Salute Europa. Benvenuti a Motore Salute Europa con notizie utili su normative bandi e iniziative comunitarie. Il progetto Dosage rientra nella strategia europea per la disabilità che è in vigore fino al 2020. Noi abbiamo intervistato la dottoressa Covelli che fa parte del team che ha realizzato questo importante progetto. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Dottoressa Venusa Covelli, il progetto Dosage che cos'è? Il progetto Dosage è un progetto che è stato finanziato dalla Fondazione Legene, aveva come obiettivo quello di fornire una fotografia il più possibile esaustiva delle persone con sindrome di Down di oltre 45 anni. Quindi ci siamo focalizzati proprio su quello che è l'invecchiamento delle persone con sindrome di Down. È un progetto che è stato realizzato grazie alla collaborazione di Anfas IPD ed è stato coordinato dall'Istituto Besta di Milano. Questo progetto ci ha consentito di delineare più da vicino quali sono le caratteristiche di un anziano con sindrome di Down oggi e i nostri risultati pone la base per delle riflessioni future proprio su quello che potrebbero essere le politiche di gestione dell'anzianità di una persona con sindrome di Down. Speriamo che questi risultati possano portare alla progettazione di nuovi progetti, di nuove azioni in collaborazione con le associazioni che da anni lavorano sul territorio proprio per migliorare quello che è il durante noi e il dopo di noi. Di fatto questo progetto si focalizza molto su quello che è anche la progettazione del loro futuro, quindi il dopo di noi tema attualmente molto in dibattito in questi giorni. Grazie per averci seguito, alla prossima puntata. Ridò la linea alla cara Gioda. Rieccoci in Honda, abbiamo raccontato di questa vostra importante ricerca, ma nella nostra vita quotidiana come la possiamo applicare? Ovvero se noi ci alleniamo, andiamo in bicicletta, camminiamo a passo molto svelto o corriamo 3-4 volte a settimana per una trentina di minuti, quali benefici possiamo riscontrare sul nostro organismo? Sicuramente i benefici sono molteplici, uno è proprio sulla nostra forza e sulla nostra abitudine all'esercizio, che significa che alcune attività che magari ci costavano più fatico, alcuni dolori soprattutto nelle persone un po' più grandi, con questo tipo di attività vengono attenuati proprio perché il nostro fisico, il nostro corpo è in allenamento e quindi è in grado di sopportare meglio questo tipo di eventualità, oltre al fatto che ovviamente ne ha a beneficio un po' tutto, anche il nostro sistema cardiocircolatorio, anche la nostra mente se vogliamo. Quindi sicuramente ci permette di sentirci fisicamente meglio e quindi di poter affrontare meglio tutto quelli che possono essere la vita quotidiana sostanzialmente. E questo abbiamo detto a tutte le età. E facciamo la domanda opposta. Se invece noi viviamo in maniera sedentaria, magari ci alimentiamo anche male e non facciamo nemmeno i cinque passi che ci separano da casa alla fermata dell'autobus, perché parcheggiamo l'automobile sotto l'ufficio e poi sotto casa, che capita? In questo caso ovviamente tutto questo meccanismo di autoalimentazione, cioè questo motore che ha bisogno comunque di essere sempre messo in movimento, si viene a fermare. E quindi in realtà qualsiasi tipo di piccolo sforzo, che sia la persona che a casa sposta il mobile o la mamma che ha il bambino da tirare su e giù, provoquerà sia una sintomatologia magari di tipo muscolare, quindi il classico doloretto, il dolore e la fatica, che ovviamente anche un sovraccarico sulle altre strutture e quindi il classico mal di schiena che purtroppo abbiamo tutti sia giovani che vecchi, proprio perché la struttura muscolare che tiene l'impalcatura della nostro corpo, quindi le ossa, la circolazione eccetera, viene un pochettino a calare, a calare di forza e questo fa sì che poi ogni piccolo sforzo, andando avanti nel tempo, può accumulare fatica su tutte le strutture e quindi facilitare quello che poi si vede nelle persone magari più grandi che hanno o non hanno avuto un'attività fisica, le famose protusioni discali, il dolore alla schiena, la sciatica, che invece con un allenamento di questo tipo probabilmente si riuscirebbe a prevenire. Abbiamo parlato di metabolismo dei grassi, con questo tipo di attività fisica i grassi vengono consumati in maniera diversa? Diciamo che i grassi in qualche modo vengono consumati in maniera diversa perché c'è un'attivazione di quelle vie metaboliche che utilizzano proprio i grassi come benzina, come se questo motore che noi abbiamo e che va a benzina venga fatto lavorare meglio e quindi utilizziamo meglio quella benzina e quindi effettivamente a livello del metabolismo dei grassi si accelera un pochettino, si aumenta questo motore nella sua capacità di lavorare e quindi utilizza di più i grassi e li utilizza meglio. Allora, nel caso invece in cui ci alleniamo troppo, ovvero ci stiamo allenando per la maratona di New York di novembre, se non erro, e quindi corriamo 20 km di seguito, 30 km di seguito, cosa capita al nostro organismo? Come sempre è tutto fatto da buon senso, nel senso è ovvio che se siamo un maratoneta e quindi abbiamo un'abitudine, questo nostro motore che dobbiamo proprio immaginare come un motore di una moto è allenato a lavorare e quindi sicuramente lavorerà bene, è ovvio che se il nostro motore è quello di una 500 e noi gli facciamo fare la pista della Ferrari, questo motore non andrà avanti e quindi si incepperà e quindi si accumuleranno queste sostanze tossiche che sono i radicali liberi e quindi farà fatica a lavorare e ci saranno tutte quelle conseguenze, dal dolore muscolare, il crampo, la mialgia eccetera, che sono legate proprio al fatto che il nostro motore non ce la fa. Lo so che lei non lo vuole dire, ma io lo domando lo stesso, nel senso che è politicamente scorretto dire che esagerare a fare attività fisica non fa bene, ma in realtà allenarsi per correre 40-50 km, ci sono persone che corrono 100 km, non è sano per il nostro organismo? Diciamo che se non c'è un corretto allenamento, no, non bisogna fare le classiche cose che a volte tutti noi facciamo, nel momento in cui abbiamo un momento libero, oppure c'è la corsa, la maratona della scuola dei bambini, andiamo a fare 5 km di corsa quando non abbiamo nessun tipo di allenamento, ecco questo non fa bene. Non ci fa bene? No, non ci fa bene, né a noi né ai nostri bambini. Allora nel minuto finale diamo i consigli per stare bene facendo movimento ai nostri telespettatori. Come dicevo, l'ideale è fare un'attività fisica che sia sottomassimale, un'attività fisica continuativa. Ecco, sottomassimale significa che il nostro cuore non arriva all'eccesso. Sì, che il nostro fisico non arriva all'eccesso, dobbiamo fermarci un momento prima di essere troppo stanchi, quando ci accorgiamo che siamo troppo stanchi a quel punto rallentiamo e questo è sottomassimale, cioè un po' sotto il nostro massimo. Non dobbiamo esagerare. Non dobbiamo esagerare. Quindi abbiamo detto 3-4 volte a settimana il consiglio. 3 volte a settimana sicuramente, un'attività fisica almeno per mezz'ora, ma che può essere anche 3 volte alla settimana, torno a casa dall'ufficio a piedi invece che con la macchina, il motorino o viceversa, che ci permette di fare questo tipo di attività. La mezz'ora deve essere ovviamente di seguito, lo diciamo perché… Eh sì, assolutamente. Eh no, perché altrimenti poi… Entrano neanche in gioco i metabolismo. Esatto, i nostri telespettatori magari barano perché vanno 10 minuti all'andata e 10 minuti al ritorno e fanno due piani di scale. No, la somma vale meno del totale. Esatto, assolutamente. Bisogna lasciare il tempo a questi fattori di agire, quindi al muscolo di contrasto, a questo T-Fab di lavorare e ai metabolismo di lavorare, quindi è ovvio che bisogna che queste vie metaboliche entrino in gioco. Per cui queste 3-4 volte a settimana di seguito le dobbiamo fare. Di seguito le dovete fare, sì. Allora, grazie per essere stata con noi, credo che sia stato davvero molto utile per i telespettatori che ci seguono da casa perché hanno la dimostrazione di quanto diciamo spessissimo che i corretti stili di vita ci fanno bene e in questo caso davvero il movimento fisico può cambiare il nostro stato di salute in maniera significativa. Appuntamento domani sera con Motore Salute. Grazie a tutti.